Un autocarro dopo aver urtato il guardrail si è ribaltato e posto di traverso. Nessun altro mezzo fortunatamente è rimasto coinvolto. L'incidente è avvenuto in provincia di Padova lungo la strada regionale in uscita verso Campo San Piero. I due occupanti sono rimasti feriti ma non in maniera grave. Sul posto le ambulanze e la polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico.